Qualcuno che ci dite, tagliatevi lo stipendio, vi do una notizia, lo facciamo già, lo abbiamo sempre fatto. Continuiamo a farlo e restituiamo alla comunità una parte, come giusto che sia e siamo orgogliosi di averlo fatto. Qualcuno diceva, scusate non ho scritto il nome, siete uguali agli altri. No, non siamo uguali agli altri. Non siamo uguali agli altri perché ad esempio ne avevamo detto che ci saremmo tagliati i stipendi e l'abbiamo fatto. Avremmo detto che avremmo eliminato Vitalizi e col presidente Fico, lo abbiamo fatto, siamo intervenuti su Vitalizi. Avevamo detto che abbiamo fatto Redio Cittadinanza, piaccia o non piaccia, l'abbiamo fatto. Avevamo detto che avremmo fatto il decreto dignità, cioè per abolire quella che era sostanzialmente una piaga della precaritazione e l'abbiamo fatto. Siamo quelli che hanno fatto con allora Alfonso Bonafede un intervento con la spazza corrotti. Ecco, tutto questo purtroppo questo governo sta smantellando e quindi no, non siamo come gli altri. Possiamo piacere o non piacere, ma sicuramente abbiamo le nostre identità che portiamo avanti con orgoglio. E poi si può sbagliare, non siamo perfetti. Non ci mancherebbe io stessa come stata sindaca, sicuramente lo avevo detto tante volte. Quando tornavo a casa pensavo come avrei potuto fare meglio e sicuramente si poteva fare meglio. Però ai nostri valori non abbiamo rinunciato e continuiamo, vi assicuro, a fare quello che riusciamo proprio per cercare di perseguire quelli che sono i valori dell'interno del Movimento 5 Stelle. Grazie.